Ma il governo può cadere sull'IMU secondo lei? Dobbiamo affrontare il passaggio che abbiamo di fronte con lo spirito di compromesso perché il governo Letto è un governo di compromesso tra il PD e il PDL che hanno programmi e riferimenti sociali diversi quindi spero che prevalga l'interesse per il Paese e ripeto il buon senso.